Mezzogoro Comics è stato il primo evento cosplay nella frazione del comune codigorese. Tanti premi e tanti personaggi che hanno interpretato cosplay che si sono sfidati in un concorso molto partecipato. In paglio premi e per i più piccoli ingressi a Mirabilandia è stata una giornata intensa. Mezzogoro tantissime persone per ammirare per strada i vari personaggi che animano il mondo dei fumetti, dei videogiochi, dei film, anime, manga e cartoni animati. L'evento organizzato in collaborazione con il gruppo Phoenix Cosplay è poi proseguita fino a tarda sera con un DJ set in piazza Vittorio Veneto. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell'evento che ha visto una partecipazione oltre le aspettative.